attraverso lo sport e la professione di WISP e quindi la mia domanda è quanto lo sport oggi coinvolge i giovani, quali sono le difficoltà e quali sono invece gli strumenti, in particolare pensando ai giovani di cui stiamo parlando, i più difficili da coinvolgere, quali sono appunto le difficoltà nel coinvolgervi nell'attività sportiva e invece quali possono essere gli strumenti per farlo. Buongiorno a tutti anche da parte mia, anzi non lo dico perché andate poi arriveranno i cartellini, perché quando uno dice sarà breve e rischia sempre, quindi non lo dico. No, intanto voglio ringraziare anch'io per l'invito a questo bellissimo festival, almeno io non ho ancora avuto modo di guardare altro, probabilmente lo farò nel pomeriggio, però visto il programma è davvero una gran bella iniziativa e la WISP, voglio dire subito, non dà per scontarlo, anzi è una gran bella cosa che la WISP faccia parte e sia stata invitata, come dire, del festival della partecipazione, lo dirò meglio anche dopo. Mi ha fatto piacere ascoltare le parole e lo stesso migliori rispetto a che noi fin dall'inizio, come lei sa, siamo stati presenti e come lei stessa ricordava, sul territorio dell'anno. Fatemi fare una premessa per avere una dimensione diciamo chiara e poi vado subito a rispondere alla domanda che mi è stata fatta. La premessa è questa, questo è un paese che non ha ricevuto in nessuna norma statale o, visto la protesta legislativa anche delle regioni, la regionale, della definizione di sport. Quindi noi partiamo già rispetto a quello che può essere tutto il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo di base, di militantistico, professionistico, eccetera, eccetera, che lotta costantemente facendo una definizione, passata dai termini, domestica di quello che è la pratica sportiva, lo sport, iconi per una parte, eventi di promozione sportiva per un'altra, le associazionismo sportivo di base, le società sportive per un'altra ancora, ma noi non abbiamo una definizione di sport. Abbiamo uno stato di avanzamento culturale e normativo invece rispetto a quello che è il quadro complessivamente europeo, tradotto nel 2007, come voi sapete, il Consiglio, anzi la Commissione europea ha pubblicato il libro bianco sullo sport, sport, ricepisce la definizione di sport del Consiglio d'Europa. Nel 2009, con il Trattato di Lisbona, si comincia a parlare di dimensione della sport, progetto Erasmus, eccetera, eccetera, le cose che ci vedono anche a tempo, Erasmus, sport, e i progetti che ci vedono tra l'altro anche con i poli, insieme ad Accionente e ad altre realtà, appunto anche istituzionali. questo che cosa vuol dire? Che noi costantemente in questo Paese, a cominciare da chi li parla, partecipa a delle tavole rotonde, non in questo caso, meno male, arriva a Dio, per poter dire sempre costantemente che c'è da circa 25-30 anni una famosa fascia di età, che è il famoso drop-out del Paese, per cui i giovani non fanno sport, non praticano sport. Cosa fa la cultura sportiva e il sistema sportivo di questo Paese nell'accordo con le istituzioni? Poco d'una, perché la legislazione è ferma, le definizioni sono ferme, gli stessi strumenti che vengono messi a disposizione sono fermi. Diamo una parentesi per dare una dimensione, delle cose. l'AUIS insieme a, da altri pochissimi enti di promozione sportiva, ha attivato presso l'ICOMI una azione, sia sul piano etico che sul piano anche sostanzialmente politico, di trasparenza e di gracciabilità dei dati della consistenza dei clienti di promozione sportiva, prima si diceva appunto in auto-certificazione, e l'ICOMI ha messo a disposizione una piattaforma della trasparenza. Quella piattaforma della trasparenza lì permette di ridistribuire risorse pubbliche che anche gli enti di promozione sportiva intercettano sulla base di alcune percentuali di alcuni schemi trasparenti. Prima, le federazioni sportive, questa roba, non ce l'hanno. Quindi un prende risorse, investe per portare a casa le medaglie, guarderemo tutti Rio, guarderemo tutti, ci esalteremo se portiamo a casa le medaglie, sottolinea una cosa, l'85% del medagliere italiano è legato ai corpi armati dello Stato e probabilmente sarà di nuovo la stessa cosa. Che cosa voglio dire? Di fronte a questo c'è il protagonismo come spesso accade in questo Paese della diversa società civile e di come i cittadini si auto-organizzano, quindi qui stagione altre organizzazioni, è che la società civile spesso non attende di avere un quadro legislativo, un quadro normativo di riferimento, ma si fa carino, si assume una responsabilità essendo organizzazioni appunto mutualistiche e quindi organizzano attività per poste sportive eccetera per i propri soci, ma siccome sentono una responsabilità sociale nel rapporto appunto con le istituzioni, con tutti gli altri soggetti delle reti sociali ed è chiaro che da questo punto di vista cerchiamo di incidere, WISP, se una dalle società, cerchiamo di incidere su quello che non solo la necessità di garantire come diritto di cittadinanza e attraverso lo scopo tutti i diritti di cittadinanza di questo Paese o meglio delle persone così specificatamente intenziali, ma guardiamo con particolare attenzione quelle che sono le criticità fondamentali della pratica sportiva, che una la dicevo prima quella del troppo alto, l'altra è quella di individuare sempre ed esclusivamente nella maggior parte dei progetti sportivi, anche nel rapporto con i neuro per esempio, la necessità di incanalare il giovane o la giovane, il ragazzo o la ragazza, spesso purtroppo anche il bambino, la fede del motocicrismo mette sull'enimo modo già 6 anni, 6 anni e mezzo i bambini, quindi voglio dire, stiamo parlando di questo, la famosa precocizzazione per individuarlo dopo si discute di drop out, dopo c'è una fase, questa invece è normale, nella vita delle persone perché si arrona da altre esperienze eccetera eccetera, ma questo tema del drop out non si sposta perché non ci sono investimenti dal punto di vista prettamente culturale per cominciare a dire che il bambino, la bambina ha bisogno di un approccio multidisciplinare rispetto a quello che è la pratica sportiva, è all'inizio di puro gioco e se vogliamo scomodare il piaget di psicomotricità pura e quindi di crescita diciamo della persona rispetto al tema, come dire no, del diventare cittadino, dell'essere cittadino a pieno titolo, a questo punto di vista dice bene, noi abbiamo il nostro 1.335.000 banca dati soci, una percentuale notevole al di sotto già dei 16 anni, ma anche al di sotto dei 16 anni, la fascia 1624, 1635, con queste persone cominciamo a assumere una responsabilità dal punto di vista formativo, ripeto nel rapporto con gli altri soggetti delle reti sociali e ad assumerci una responsabilità per cui la pratica sportiva deve essere assolutamente una pratica appunto appetibile, una pratica che deve essere misurata alla necessità e qui prendo per esempio il progetto che è fatto che abbiamo presentato con Accionente, React, Lifestyle, no, progetto europeo su risocializzazione appunto dei need, su questo io non aggiungo altro, mi è stato detto molto bene da chi mi ha preceduto e quindi utilizzare sostanzialmente le opportunità di pratica sportiva per assumersi di nuovo una responsabilità di cittadinanza e quindi attraverso il calcio o il gesto atletico o tecnico del calcio della danza in questo caso o della pallacanestra come abbiamo fatto nel progetto di Torino di cui si ricordava con un finanziamento appunto in sostegno dell'Agenzia Giove della Regione Piemonte 2014-2015 e su questo l'ho visto poi sostanzialmente gire perché attraverso la come dire valorizzazione delle soft skills, non so come vengono chiamate, anzi abbiamo visto anche dal punto di vista dei numeri, io qui li do e mi fermo sperando di non avere il cartellino però ci occupa di farlo, 81 ragazze che siamo riusciti ad intercettare dentro questo progetto, 24 coinvolti nel progetto in allenamenti regolari, 4 sono stati inseriti in filoscinio, 3 giovani grazie appunto al lavoro di motivazione hanno avuto risorse proprie e individuate delle opportunità lavorative, 3 giovani hanno ripreso gli studi interrotti, 14 inseriti in garanzia giovani, 10 non l'avrebbero fatto senza il progetto e 10 con l'ho realizzato con l'inserimento lavorativo. Ecco perché chiudo, ringrazio per l'invito della UISP nel Festival della Partecipazione, finalmente si riesce a prendere consapevolezza della grande di cui si parla spesso, la Ciccia rischia di essere un'altra, della grande opportunità che il movimento esportivo, non solo l'UISP ma chi agisce per migliorare le qualità e le opportunità di soltanto dei giovani ma di tutti i cittadini e tutte le persone per avere l'inserimento e la risocializzazione ma anche per sentirsi a pieno titolo cittadini e per poter poi partecipare anche con le persone proibili pubbliche di un rapporto sussidiario con essa. Grazie.